Grave incidente questo pomeriggio a Sanremo in Corso Marconi all'imbocco del rettilineo che porta a Ospedaletti. Erano circa le 13 quando una ragazza, 25enne, a bordo del suo scooter, si è schiantata contro un furgoncino bianco che, stando alle prime informazioni, pare procedesse in direzione contraria. Gravissime le ferite riportate dalla giovane, in particolare ad un piede. La ragazza ha perso molto sangue ed è stata a lungo rianimata dagli operatori del 118 sul posto con l'automedica e l'ambulanza di Ospedaletti Emergenza. Presenti anche i carabinieri della stazione di Sanremo e gli agenti della Polizia Municipale che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro. La giovane è stata trasferita in elicottero a Santa Corona.